Ciao Margherita, complimenti per il tuo disegno. Non possiamo consegnarti la maglia di persona, ma tutta la squadra l'ha firmata. Vedrai che ci rivediamo allo stadio. Un abbraccio e forza a Ellas. È stato un periodo particolare, però avete studiato un progetto bellissimo, un progetto che ha vinto Margherita, quindi oggi è stata la consegna della maglia, era molto molto felice. Penso che sia una soddisfazione anche per voi che lavorate sul progetto Scuola. Direi di sì. Durante il periodo in cui i bambini erano purtroppo a casa con questa pandemia, abbiamo deciso di star vicino a loro lo stesso e cercare di coinvolgerli, visto che il progetto era nel pieno del suo svolgimento. Allora abbiamo provato a lanciare questa idea di questo concorso di fare un disegno che fosse legato ai colori dell'Ellas e anche alla situazione che vivono in casa, con uno slogan. Insomma c'è stata una bellissima adesione, quasi 130-140 disegni sono stati mandati ai nostri canali, sono stati pubblicati sui social e poi sono stati votati e ha vinto questo bellissimo disegno che oggi abbiamo consegnato, con la maglietta ovviamente stampato sulla maglietta. Margherita, oggi abbiamo premiato il tuo disegno, era bellissimo, ti sei divertita a farlo? Sì, mi sono divertita e è stato bello questo progetto perché l'Ellas mi piace molto. Un disegno, ma sappiamo che ti ha aiutato anche un po' il papà. Sì, mi ha aiutato anche il papà. Senti, hai visto anche il video, ti abbiamo fatto vedere il video di Miguel Veloso che appunto ti faceva vedere questa maglietta che ti è stata regalata con le firme dei calciatori, è stata una bella sorpresa. Sì, non mi aspettavo che guardavo il video, che è stato molto bello e anche le firme mi sono emozionata tanto.